Dieci mesi appena una diagnosi di tumore maligno sulla schiena, l'operazione prima poi l'ha scoperta che quelle cellule maligne sono ancora lì. Sebastiano per questo dovrà affrontare ora un ciclo di chemioterapia presso la clinica oncoematologica pediatrica di Padova. Sul web con la piattaforma GoFoundMe è partita alcuni giorni fa una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Sebastiano. Mamma Giulia ha dovuto lasciare il lavoro per seguire questo percorso di cura, le spese per gli spostamenti sono alte. Anche il sindaco di Ispresiano, Marco Della Pietra, attraverso la sua pagina Facebook ha rilanciato la storia di Sebastiano invitando a donare e postando la pagina attraverso cui poter dare una speranza in più al piccolo e alla sua famiglia.